Non è servito il denaro al nipote del boss per sfuggire alla mano della giustizia. Fuori grotta i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno arrestato per porto illegale di arma da fuoco, ricettazione e stigazione alla corruzione, Marco Zazzo, 26 anni, residente in via Campegna, già noto alle forze dell'ordine per essere il nipote di Salvatore Zazzo, capo dell'omonimo clan camorristico operante a fuori grotta. Zazzo è stato notato in sella ad una moto dai militari dell'arma che gli hanno intimato l'Alt per controlli. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga venendo comunque raggiunto dopo un breve inseguimento. Visto sia avvicinato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a calibro 9,21 con serbatoio e otto cartucce che portava nella cintura dei pantaloni. Successivi controlli dei carabinieri hanno accertato che l'arma era stata rubata il 7 agosto in zona. Durante le operazioni di rito Zazzo ha più volte offerto ai militari che lo avevano bloccato 5.000 euro in denaro contante a testa per chiudere un occhio. Una scenata inutile e per lui si sono aperte le porte dell'istituto penitenziario di Secondigliano.